Annuncio che noi presenteremo alla ripresa una proposta di legge della regione Campania per la eliminazione del numero chiuso nella facoltà di medicina. È una competenza nazionale, la regione può però approvare una legge che invia come proposta al Parlamento italiano. Io intendo fare fino in fondo questa battaglia per cancellare questo scandalo nazionale che è la vicenda del numero chiuso nella facoltà di medicina. È uno scandalo, una vergogna che ha due soli risultati, quello di mantenere in piedi un marchettificio di quelli che devono fare i corsi di formazione preparatori. 5.000 euro a corso ed è una vergogna doppia perché stiamo creando migliaia di ragazze e di ragazzi in depressione perché quando non superi per un anno o due anni il corso vai in depressione. Una vergogna.